ciao a tutti e bentornati come una volta su indie gameplay ita oggi altro video a proposito di della serie metro e vi chiederete perché metro ancora per ogni tanto ci sta porto qualche non indie qualche tripla ma ho voluto portare un altro episodio qui siamo su metro exodus quindi l'ultimo capitolo forse uno dei primi a portare la ray tracing in all'interno del videogioco quindi la nuova tecnologia con le nuove rtx le schede perché porto questo gioco perché io non sono un fan della serie non ho avuto il minimo hype mi son giocato in quattro giorni il metro 2033 il metro last light e ora sto iniziando questo nuovo capitolo l'ho iniziato mi è piaciuto è totalmente diverso dagli altri ve lo faccio vedere continuiamo con l'avventura sto usando anche il software di registrazione della nvidia perché ho qualche problemino non voglio spoilerarvi troppo quindi io vi spiegherò un pochino le modifiche e che cosa mi è piaciuto di questo titolo sono circa quattro ore ed è un gioco che permette di durare almeno quanto il primo e il secondo capitolo insieme quindi si parla di una 20 25 ore forse anche qualcosa in più guardando i miei ritmi guardando quanto sto andando veloce e quanto si muore rapidamente sto giocando sopravvivenza normale difficoltà normale quindi non facile non racconto non accede altrettanto rapidamente si uccide rapidamente ma vi chiedo scusa ma ho qualche po di tosse allora la cosa spettacolare ma veramente veramente spettacolare sono i panorami allora benché la grafica non mi faccio gridare il miracolo anche se siamo in un ultra ritracing attivo tutto al massimo perché ho cambiato pace da poco quindi volevo provare a godermelo al massimo la figata è che quando voi siete lontani in questo caso siamo di notte c'è il ciclo giorno notte quindi è la prima novità che vi mostro premendo la b attivate il binocolo dove potete andare a ingrandire adesso qua non c'è granché ma prima io ero in una zona lontana e in una zona lontana lontanissima riuscivo a vedere il treno dove siamo perché un'altra delle novità è che si sto andando a missione ciao un'altra delle novità è quella che non è più lineare come prima con delle zone piccole in cui si va si procede avanti si uccide che era bello anche quello perché abbastanza rilassante si sfogava un pochino lo stress almeno per me funzionato molto adesso si vaga un pochino più su grandi aree vedete due chilometri per due chilometri più o meno come avevo detto nel video scorso praticamente qui vagheremo faremo delle missioni non ci sono fetch quest quindi vai recupera sono tutte missioni legate alla storia però vedete un po alla daylight quelle case verdi sono luoghi in cui potete fermarvi equipaggiare cioè modificare le armi che avete mentre solo al treno potete prendere altre armi che magari avete recuperato avete messo in archivio mentre invece in giro potete solo ripararle pulirle e mettergli nuovi mod che avete magari trovato nell'avventura craftare munizioni e dormire quindi far passare il giorno ecco vedete io prima ero la in fondo inizierete poi a conoscere anche bene la mappa vedete io la sopra ci sono stato prima ed eravamo la e guardando qua si vedevano le persone si vedevano le persone qua di guardia erano diverse perché non c'erano queste c'era una sola di guardia il treno è io non vi spoilerò nulla perché non è mia volontà farlo però ecco ma è importante seguire magari la storia dell'uno e del due sono dieci ore l'uno più o meno ci ho messo a finirli è molto interessante ovvio giocando questo direttamente non vi perdete come iniziare che so il ritorno dell'area l'ultimo capitolo del signore degli anelli il film o il libro senza aver dato i precedenti perché non capireste niente non è neanche come iniziare il try di the witcher senza aver giocato l'uno e il due lo potete fare però non sapete magari background del capitano qui della figlia del capitano non vi dico nulla però insomma sarebbe carino giocarlo anche per entrare nel loro qua si intende l'unica cosa che vi dico è si lascia mosca si va in giro si vaga per il mondo mi ricordo che è un po siberia come serie c'è come come gioco perché si vaga nella neve con un treno però vabbè la c'è una una civiltà di fanatici religiosi la in fondo c'è un ponte che dobbiamo riuscire ad abbassare ci sono tutta una serie di cose che vi motivano ad andare ad esplorare e quello che possiamo fare ora ad esempio è andare in fondo a quel termine lo vedete segnato con la x ma abbiamo due possibilità o andarci di notte quindi con la gente gli umani arrivano a dormire hanno una guardia limitata quindi possiamo entrare furtivamente io posso questa pistola col silenzatore oppure andarci di giorno quindi meno cariatura in giro però più persone sveglie e quello che possiamo fare poi nella base qua come vi dicevo è modificare l'arma l'avete già visto nelle recensioni se il titolo vi interessa insomma noi giriamo sempre con questo zaino dalle dei corpi e dalle casse non troviamo più come in passato solo munizioni e filtri e medikit ma troviamo anche dei bulloni insomma questi due bulloni chimica con queste possiamo andare a craftare in questo caso posso fare per al costo di cinque ingranaggi e venti medici possiamo 20 chimichi chimica che elementi chimici possiamo fabbricare il medikit che mi mancava quindi faccio un paio almeno ce li ho vedete che si va a riempire possiamo andare a pulire le armi e le armi non si inceppano possiamo andare ecco questa è un'altra scusate questa è un'altra arma che ho la voglio pulire e per pulirla ci costa ci costano elementi chimici quindi pulite e possiamo andare a modificare le varie parti in questo caso ho la mia pistola silenziosa col silenziatore possiamo andare a modificargli il tipo di chimierino ma non ha molto senso perché voglio mettergli questo e poi si esce ovviamente si può craftare anche filtri e cose varie poi adesso io qua non mi ricordo dov'è la possibilità di dormire e un'altra novità che hanno introdotto è quella che possiamo andare a salvare in qualsiasi momento noi vogliamo quindi possiamo salvare la partita non è più a checkpoint quindi possiamo salvare ogni due passi se voi siete abituati generalmente sono abituato così si a salvare ogni due passi volevo capire come si va a dormire qui perché non l'ho ancora fatto io dormito solo in giro però la serie di metro mi ha preso parecchio ovvio non ci passo le ore ma ci gioco per rilassarmi e mi ha mi ha preso parecchio e dato che non era un fan ho voluto proprio portarvi la scoperta così in tempo reale a breve poi avremo anche una missione da fare per aggiungere vagoni quindi aggiungeremo vagoni al treno che diventerà più grande poi vabbè c'è la missione che non vi vado a dire insomma quello che io voglio fare ora sarebbe andare a quel punto di domanda là probabilmente là ci troviamo un rifugio e il rifugio ci consentirà di di salvare e di mandare avanti il tempo perché vedete l'ora sono le non riesco a leggere bene sono le 23 27 col tasto n possiamo andare ad analizzare anche adesso non mi ricordo non me lo fa si possono andare ad analizzare anche le radiazioni ovviamente mettere la maschera è più incentivato per il discorso delle radiazioni perché qua essendo in esterno ma essendo più pulito solo le zone chiuse ok vedete è molto rigido il gioco cioè ci punisce come niente se ci attaccano alle spalle ci danno un colpo in testa siamo morti ma al tempo stesso anche noi possiamo essere letali se facciamo attenzione e se colpiamo anche noi alla testa allora adesso io devo andare là là è una zona che mi pare ho già esplorato e la furtività è incentivata maggiormente mentre nello scorso capitolo ci andavano a beccare subito vedete che possiamo abbiamo più azioni di questo tipo in che possiamo passare all'interno con delle scene diciamo scriptate cioè dove avanziamo però possiamo passare da da zone strette quindi qua abbiamo scoperto probabilmente un rifugio infatti questo è un da lavoro in cui possiamo lavorare non abbiamo la rastrelliera delle armi come abbiamo sul treno però possiamo fare un po' le modifiche e la pulizia delle armi dovremo trovare anche un letto di solito infatti eccolo qua abbiamo un'altra cosa dove recuperiamo altri materiali vedete abbiamo recuperato qualcosa possiamo accendere le luce questo sulla mappa dovrebbe essere diventato un rifugio infatti vedete che è diventato verde possiamo dormire ed è quello che faremo così andremo a a goderci la diciamo la missione l'avanzata con la luce del giorno è figo il fatto che comunque poi di notte sia tutto molto spettacolare ho fatto delle foto veramente sembrano veramente impressionanti gioco in full hd ma tutto al massimo il gioco è leggerissimo l'ho trovato leggero vedete qua potete attendere fino al giorno uscire e quello sotto non so cosa sia comunque io adesso faccio il giorno vedete puntiamo l'ora e andiamo a dormire è un'amministrazione del gioco di ruolo ma molto 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 soft che è bello perché non se non volete buttarvi in giochi pesanti in cui dovete fare un sacco di fetch quest quindi vai recupera vai parla con ma amministrarvi semplicemente la missione dovete andare lì si spara perché si spara non è che si fa altro però è bello anche il gameplay proprio il fatto di 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 sparare di di avere contro dei dei nemici che sono dagli animali quindi un po' stupidi magari che si organizzano in branco agli umani che finché non vi beccano voi potete ucciderli uno dietro l'altro in modo furtivo quando vi beccano scopre il film mondo non è che poi vi nascondete tutti tornano normali non funziona così ma c'è una zona che ho esplorato per sbaglio che ho già pulito in realtà prima c'erano delle persone l'unica cosa che ho notato ecco vedete ci vuole un po per la messa a fuoco del binocolo poi graficamente non è fotorealistico però è molto bello devo dire che è molto bello l'ambientazione fatta bene il sonore veramente eccezionale mi è piaciuto tanto e dal mio punto di vista qua la sparroga rossa ma non voglio poi offendere nessuno però è il mio gothi cioè il gioco che per me che ho avviato finora ho provato anche control ne ho provati tanti altri appunto perché ho deciso quest'anno svenandomi di cambiare il pc in modo da essere proprio pronto per gli anni a venire per cyberpunk per un sacco di altri giochi e soprattutto poter registrare e streamare in tranquillità qua mi dice che si sente il contattore Geiger quindi dobbiamo mettere la maschera poi dobbiamo pulirla dobbiamo tenerla pulita e soprattutto se la ce la dimentichiamo addosso mentre spariamo combattiamo magari in zone in cui non ne abbiamo bisogno queste sono le radiazioni vedete che ci da sono altissime qui la rischiamo di danneggiare e buccare quindi non funzionerà più ma dicevo ho cambiato il pc mi sono svenato e io ho iniziato a provare un po di giochi nuovi li giocavo già a dettaglio abbastanza alto con un pc di cinque anni fa quindi stato oltre oltre quello che mi serve però ho voluto provare e questo tra i giochi nuovi è quello che mi ha stupito di più e mi ha stupito di più e mi è piaciuto più di tutti da non appassionato è quello il bello guardate che bello cioè una roba veramente che fa sentire si sente proprio il freddo si percepisce ok ora abbiamo due incarichi da fare abbiamo il ponte abbiamo da recuperare un vagone di civili un vagone scusate un vagone eletto preso un vagone in più perché lo agganceremo con una ferrovia e con una locomotiva piccolo locomotore di cui un meccanico ci ha dato un fusibile per attivarla quindi abbiamo da abbassare il ponte per andare avanti recuperare questa perché abbiamo trovato dei civili e probabilmente io prevedo ne troveremo altri non abbiamo fucili da cecchino che possiamo solo andare a vedere qui vedete che là in fondo ci sono delle creature niente di temibile ci sono delle creature veramente rompiballe là in fondo c'è qualcosa la figata che poco fa mi hanno detto un esperto che abbiamo trovato qua non vi spoilerò di più ci ha detto ah guarda là c'è quello là c'è quello là c'è quello là c'è quello e faccio ah ok le mappe sono grandi parecchio e tanto da esplorare là in fondo in basso a destra vedete tipo uno sacchiotto quindi ci sono delle missioni che ci sono in ogni gioco da metro 2033 a metro la slide in cui dobbiamo recuperare è un obiettivo recuperare uno sacchiotto un bambino quindi vabbè lo andremo a fare è figo poi allora piccolo discorso sul ray tracing non è nulla di eccezionale cioè allora hanno parlato di control come riflessi di qui riflessi di là è vero ci sono ma sinceramente incontro gli riflessi sugli sui vetri degli uffici qua dell'acqua se qualcuno veniva a dirmi guarda che il riflesso dell'acqua che riflette sopra non lo vedevi prima perché solo è una novità che porta alla ray tracing io non me ne sarei manco accorto quindi non è assolutamente nulla di sconvolgente è sicuramente bello una volta che ve lo fanno notare lo sapete ecco quelli li imparerete a conoscere presto perché sono i demoni i demoni vi fanno dannare nel primo e nel secondo capitolo e hanno la brutta idea di prendervi e portarvi in giro al momento non si inceppa perché bella pulita l'arma comunque me lo sto godendo pian piano senza fretta non voglio finirlo subito ci saranno rispetto a rispetto ai capitoli precedenti dove il 2033 e la slide dove c'erano rispettivamente allora nel primo c'erano forse 12 capitoli che scorrevano via veloci nel 2 ce ne erano 31 ma che scorrevano via proprio come ogni caricamento dell'uno qua ci sono soltanto 12 capitoli e nel giro di un'ora e mezza e mi sono già trovato al capitolo 3 poi ho capito i primi due capitoli erano molto veloci il capitolo 3 si apre in un'area del genere interamente in un'area del genere quindi cosa bisogna fare da quello che ho visto si passerà ogni stagione dell'anno quindi viaggiando si viaggerà per tot chilometri viene calcolato con una sorta di diario i chilometri che facciamo dovremo passare proprio la primavera l'autunno l'estate quindi andremo anche in zone non innevate e sono tutte aree così quindi il capitolo non ve lo giocate come vai lì adesso andiamo la adesso è successo questo adesso ci ha tradito hanno ucciso il compagno di qui di là di qui di là no qua ci sono le missioni da fare vai recupera quello però c'è tutto il terreno da affrontare insomma questa me l'ha data non me la dava prima come zona esplorabile ah ciao abbiamo trovato un altro ah si è la comunicazione che mi ha dato via radio di trovare questo tizio qui quindi siamo arrivati qui e va bene ok mi spiega ah ok cambia anche l'audio proprio bello surround l'hanno lasciata i fanatici dentro ci sono dei mutanti metà umani e metà animali ok posso levarmela no tanto non dovremmo avere radiazioni qua bisogna fare attenzione a quello che dice perché anche nel capitolo prima c'è nel gioco precedente i banditi ci tengono i prigionieri ah hanno dei prigionieri che dobbiamo liberare ok ho chiesto tre volte al colonnello il permesso di entrare ma non vuole ok fare attenzione a quello che dicono perché spesso ci dicono fai così contro quel mostro contro quel nemico io anche nel gioco vecchio mi dicevano non devi mai perdere la vista sul suo sguardo e io facevo quel cavolo che volevo alla fine stavo diventando anche nervoso perché continuavo a morire poi alla fine mi sono ricordato ho fatto quello che mi diceva proprio un gameplay completamente diverso contro quel boss sì è vero che è più facile evitare i banditi infatti qua ci dà la possibilità di dormire ancora il problema oddio non siamo più lontanissimi dalla zona là però insomma bisogna andare al terminal bisogna recuperare il vagone ci sono sì è vero forse in effetti meglio di notte però di notte ci sono più caricature boh non lo so voi che cosa fareste in questo caso comunque ragazzi questo era metro exodus ho voluto farvi proprio un video da pulce nell'orecchio per invogliarvi magari o semplicemente per indirizzare delle persone che come me non ve ne fregava magari niente assolutamente di metro exodus io per la voglia proprio la curiosità di provare un gioco del genere avevo letto open world non è propriamente open world per mondo aperto per circoscritto comunque ogni capitolo e ho voluto giocare i primi due mi sono piaciuti perché mi sono proprio di solito inizio un gioco lo gioco un'oretta poi ok dai adesso faccio altro faceva invece me li sono giocati me li sono divorati e sono qui e questo invece mi ha fatto la l'impressione che mi ha invogliato in modo diverso perché non ho più la frenesia di finirlo anzi la voglia di non finirlo e quindi entro me lo gioco un'oretta molto tranquillo esploro di qui di là muoio muoio due o tre volte vabbè basta chiudo salvo posso salvare quando voglio quindi non ho nessun limite vedete che compare lì sotto quelli sono 7 7 6 dovrebbero essere i chilometri che abbiamo percorso finora col terreno e rientro vado avanti me la studio in modo diverso e molto molto più tattico molto più aperto per me è il mio gotti 2019 fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo il prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao